Ciao e benvenuti in questo nuovo fantastico video uncut in cui parliamo ovviamente come vi potete aspettare tipo dal titolo e si il titolo probabilmente è un simpatico dissing ai colleghi che sapete io amo sempre fare ma dicevamo parliamo ovviamente di She-Hulk la nuova serie Marvel Cinematic Universe Disney Plus chiamiamola un po' come volete che finalmente è arrivata sui nostri tv schermi, teleschermi, monitor, cellulari e vi prego smettete di guardare le serie tv sui cellulari, dio ok mi trattengo dalle esternazioni contro la gioventù e parliamo di She-Hulk una serie che personalmente aspettavo con ansia e che per una volta attendevo in senso positivo perché c'è tutta una serie di motivi, il primo principale è ovviamente il fatto che sono un simpatico amante dell'andare in controtendenza e siccome i miei colleghi erano schifati della CGI che a me sì sembrava bruttina ma anche sti cazzi e oh mio dio le battute invece no attendevo questa serie con ansia perché secondo me She-Hulk è la serie ideale per avere battutine perché? perché il personaggio di She-Hulk come probabilmente sa chi non la conosce perché l'ha letta su Wikipedia è un personaggio che ha avuto successo proprio quando era un personaggio ironico She-Hulk non è famosa per essere questa selvaggia She-Hulk ovvero la primissima versione del personaggio che era banalmente una versione femminile di Hulk e tra l'altro ci sono delle cose estremamente divertenti in questo fumetto che ancora non ho letto in modo approfondito ma è veramente divertente da guardare ad esempio il fatto che lo vedete come è ridotta She-Hulk? voi dite vabbè a seconda di com'è vestita si ridurrà in modo genericamente con vestiti sbrindelati no 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 è fondamentalmente un costume cioè She-Hulk qualsiasi cosa indossi generalmente indossa una maglietta bianca per un minimo di realisticità diciamo si riduce con una maglietta bianca strappata scollatissima e una sorta di minigonna strappolosa che ovviamente non lascia vedere niente perché è un fumetto degli anni 70 ma fa super ridere nel senso che non c'è una motivazione per cui sia sempre vestita in questo modo eppure in tutto il fumetto questo è fondamentalmente il suo costume guardate cioè le cover è sempre così ma vabbè non è una cosa fondamentale in ogni caso questa è la She-Hulk che probabilmente il pubblico generalista vorrebbe nel senso è un Hulk incazzoso fuori controllo e che picchia le persone e questa era She-Hulk poi a un certo punto a inizio anni 80 John Bourne arrivò a scrivere She-Hulk e la trasformò in quello che è il suo la sua versione principale e fondamentale un personaggio fondamentalmente ironico un personaggio che parla con il suo pubblico e che vive avventure anche d'azione anche intense ma sempre con un sottofondo ironico ed è evidente che è probabilmente uno dei personaggi più adatti a vivere nel cosmo tra virgolette nel ecosistema creato per il Marvel Cinematic Universe ironia 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 che qui per una volta ci sta e funziona ora quindi avevo buone aspettative per il telefilm? sì fondamentalmente sì e lo so sì telefilm sono vintage la serie devo dire la attendevo con gioia e ansia ho finalmente visto il primo episodio e mettiamo subito in chiaro una cosa è un primo episodio che non ci dice niente nel senso che ok c'è l'ironia e l'ironia me l'aspettavo si era già vista dai trailer il vero problema nel giudicare questo primo episodio è che è evidentemente un episodio totalmente distaccato da quello che sarà poi il resto della serie è un episodio introduttivo ci fa fondamentalmente le origini di She-Hulk e sulle origini ne parliamo un attimino dopo ma fondamentalmente non ci fa capire come verrà gestita la serie effettivamente perché vediamo soltanto le origini poi sì c'è una minima parte è minata in tribunale non voglio fare di spoiler particolari però è soltanto un pezzettino e quindi è difficilissimo farsi un'idea di come sarà la serie se sarà bella, divertente oppure una mezza cacata da questo episodio ora a me questo episodio è piaciuto l'ho trovato fatto bene non mi ha dato fastidio la CGI non è una cosa su cui mi soffermo troppo sinceramente soprattutto in una serie tv soprattutto in una serie tv che tantissima gente ribadiamo lo guarderà sul telefono perché oggi è così io personalmente l'ho vista sul 52 pollici e non mi ha creato particolari problemi non ho voglia di fare un confronto se è migliorata rispetto ai trailer perché non mi importa ma ribadisco non mi faccio questi grandi problemi perché non sono così interessato è credibile? abbastanza funziona? secondo me sì va bene così per assurdo ad esempio ho trovato più bizzarra della CGI di She-Hulk il look che aveva credo fosse Titania a fine episodio non sono sicuro fosse Titania non sono andato a controllare però era un po' cringe ora magari assomiglia anche a un look che aveva Titania negli anni 70 in Marvel e ci potrebbe stare come citazione ma non me lo ricordo e non sono andato a controllare e vederla così sullo schermo faceva un po' ma come cazzo è vestita questa? ma vabbè vabbè chi se ne frega non è fondamentale in ogni caso ribadiamolo l'episodio di per sé l'ho trovato gradevole ha un buon ritmo funziona bene divertente anche vedere la relazione fra Banner Bruce e la nostra Jennifer Walters e di come i due affrontino la loro trasformazione l'ho trovato ben fatto piacevole sinceramente ho passato quei tot minuti non ho idea di quanto sia durato nemmeno senza problemi l'ho trovato scorrevole funziona bene ribadiamolo il vero problema nel fare un giudizio di questo primo episodio è che non c'è modo di capire come sarà la serie di qui in poi proprio perché è un unicum isolato sarebbe come giudicare Sandman dall'episodio del viaggio in cui vedevamo i tizi a secolo dopo secolo un episodio molto diverso dal resto della serie e che boh quindi per ora sospendiamo il giudizio sicuramente ne riparliamo magari farò un video ogni episodio non lo so sinceramente se riesco volentieri può essere sempre interessante avere un parere la cosa di cui possiamo parlare effettivamente di questo primo episodio è l'origine di Shulk che ho trovato un filino troppo veloce prima apparizione di Shulk nei fumetti le cose vanno in modo abbastanza simile nel senso che abbiamo effettivamente Bruce e Jennifer in auto o meglio stanno andando all'auto quando vengono attaccati da dei malavitosi no non è vero sono in auto in realtà sono in auto ma stanno scendendo dall'auto e siccome lei è un avvocato ci sono dei malavitosi che vogliono farla fuori la colpiscono Bruce la salva con una canna dell'acqua perché anche i poliziotti mandano via i criminali con le canne dell'acqua sì non è proprio la stessa cosa perché generalmente la canna di un giardino non ha la pressione necessaria per scaraventare via qualcuno ma ok la finzione degli anni 70 è sempre divertente qui però non c'è Bruce che banalmente sgocciola sopra una ferita aperta di Jennifer ma dato che lei sta perdendo sangue e gli fa una trasfusione del suo va detto che effettivamente sapendo che Bruce ha i suoi problemi uno potrebbe dire eh però effettivamente però d'altronde stava morendo sinceramente l'ho trovata un po' più credibile qui come situazione di quella che vediamo nella serie tv dove è un po' estrema va detto che effettivamente questa cosa del sangue di Hulk che trasforma le persone l'avevamo vista credo fosse nel film con Edward Norton che tipo lavorava in fabbrica e poi c'era tipo Stanley che beveva una bottiglia in cui era caduta una goccia del sangue di Bruce e diventava gigante tipo una roba così e poi moriva però forse comunque piacevole ho trovato ottime le battutine e l'ironia di Jennifer sul fatto che ad esempio Hulk è convinto che lei sarà devastante esattamente come lui e poi si rende conto che effettivamente lei non ha alcun alter ego anche nei fumetti a parte quando decidono che Shulk deve essere Hulk versione maschio come è successo di recente con Aaron cioè Hulk versione femmina ma dell'Hulk maschio originariamente non aveva una seconda identità cioè Jennifer Walker esattamente come nella serie quando diventa Shulk è vero magari la sua personalità tende ad essere vagamente alterata perché è spinta da emozioni più forti però rimane effettivamente Shulk come nel fumetto così nella serie ed è una cosa che ho gradito e ho gradito la reazione di Banner che si sente un po' sfigatone diciamo ma il problema è che Banner anche nei fumetti effettivamente nella sua diciamo versione più classica ha dei problemi psicologici ed è questo il motivo per cui l'Hulk di Banner è totalmente fuori controllo perché è un'altra personalità dentro di lui o meglio tante altre personalità comunque devo dire che ribadisco sono soddisfatto della visione fatemi anche voi sapere cosa ne avete pensato come avete gestito la cosa ribadiamo che la rottura della quarta parete che vediamo nella serie tv e ho gradito particolarmente la seconda volta quando anche lei sembra quasi domandarsi ma con chi sto parlando molto carino c'era anche nei fumetti di Byrne di John Byrne sì lo so Byrne nessuno sa come si legge ma Byrne in teoria deve essere quella più corretta e c'era anche lì ed era una delle suoi tratti caratteristici più presenti e quindi sono ben contento che ci sia anche nella serie tv poi nessuno si è lamentato per Deadpool che parlava con il pubblico immagino quindi Shulk questa cosa non dico che l'abbia inventata ma è stato uno dei primi casi nei fumetti Marvel per cui quindi fatemi sapere ribadisco cosa ne avete trovato pensato a me devo dire questo primo episodio è piaciuto ma sospendo il giudizio per vedere come saranno i prossimi e per vedere come gestiranno da qui in poi l'umorismo come gestiranno la trama ci sarebbe effettivamente da chiedersi quell'astronave cosa voleva lo scopriremo più avanti spero di sì magari diventerà una parte integrante della trama ha detto Sakariana tra l'altro non è bello non è bello ma come l'ha riconosciuta fra l'altro e poi ci sono vabbè vedremo fatemi sapere noi ci vediamo ovviamente al prossimo video intanto io vi ricordo che ho un gruppo telegram che parliamo di fumetti un canale con le notifiche un canale con le offerte una pagina su twitch dove faccio live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 e magari parleremo anche di questa cosa quindi se volete fare delle domande su Sheulk e volete parlarne un po' magari questa sera o le prossime ci troviamo anche se questo video esce dopo la live di oggi in teoria ma fa niente poi seguitemi anche su instagram e se volete seguire invece le live indifferita li pubblico il secondo canale youtube cantina per alta in ogni caso noi ci vediamo al prossimo video e ciao 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 ciao